Attraverso l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, interlocutore unico per le imprese intenzionate ad investire sul territorio, la Regione può presentarsi al meglio con strumenti ed opportunità messe a sistema. Lo ha detto oggi il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, durante l'incontro intitolato Investire in Friuli Venezia Giulia. All'inizio venivano da me molti imprenditori, molti commercianti e mi palesavano un problema, che era il fatto di non avere un interlocutore unico, di dover andare a bussare alla porta di diversi uffici per avere magari anche risposte diverse. Nell'ultimo anno l'Agenzia ha totalizzato 247 informative per le imprese, 28 dossier per imprese e investitori, 32 webinar informativi e 4.700 iscritti. Abbiamo iniziato da poco, la stiamo rafforzando e soprattutto per rendere la vita ai nostri imprenditori è un po' più semplice, anche per quanto riguarda l'affrontare la burocrazia, quindi un unico interlocutore in grado di dare tutte le risposte. Il Friuli Venezia Giulia presenta un tessuto economico-industriale con una forte apertura internazionale, aree industriali attrezzate e concentrazioni settoriali significative. I settori trainanti sono la metalmeccanica, la metallurgia, la fabbricazione di prodotti in metallo e di macchinari, la canteristica navale e nautica, il legno arredo e l'agroalimentare. Durante l'incontro sono stati ricordati gli strumenti attivati per favorire l'economia regionale, incentivi all'insediamento rivolte a piccole, medie e grandi imprese per nuovi insediamenti produttivi, il Fondo di rotazione per le iniziative economiche che eroga finanziamenti alle aziende per programmi di investimento organici e funzionali all'attività esercitata, il Fondo per lo sviluppo che garantisce risorse agevolate per lo sviluppo aziendale e la finanziaria Friulia per la capitalizzazione delle imprese. Grazie Grazie